Chi era Elena Blavatsky, Elena Petrovna Vonan, 1831, Dnipro, Ucraina, 1891, coniugata a Blavatsky e anglicizzata in Elena Blavatsky, è stata filosofa, teosofa, saggista, naturalizzata statunitense. Grande strumento, iniziatrice dell'ondata sapienziale che, a parere di chi scrive, è poi continuata in tutto il mondo con i contatti decennali, con i piani di esistenza superiori, attraverso grandi strumenti. Da questi piani i maestri immateriali propongono imponenti strutture di pensiero, capace di spiegare il perché della vita e delle vite.